Sì, una mostra diffusa nel Sistema Museale del Baldarno che comprende i comuni di San Giovanni Baldarno, Montevarchi, Lorociupenna e Cabriglia. Il Sistema Museale è un soggetto che ha come capofile il comune di San Giovanni Baldarno per cui la presentiamo qui a Palomar Casa della Cultura. Una mostra che si inaugurerà diffusamente nei musei di questi comuni il 30 di novembre e avrà la possibilità di essere visitata fino al 30 marzo 2025 con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi. Naturalmente la mostra è curata da Nicola Spallario, un curatore d'arte e di mostre di livello nazionale. Non siamo particolarmente felici perché siamo riusciti davvero in questa occasione a fare Sistema. Quindi chi verrà a visitare queste mostre potrà visitare e vedere anche tutti i nostri comuni.